Solo ieri Emilio Cianciola ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale con una nota protocollata al comune di Agropoli attraverso la quale ha esposto le motivazioni di questa sua scelta. Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco Adamo Coppola che ha così commentato «Non posso che manifestare il mio dispiacere in merito alla decisione di Cianciola di rimettersi alla carica di consigliere comunale», spiega il primo cittadino. A lui auguro i migliori traguardi personali e professionali. Per quanto attiene alle motivazioni della scelta, vista l'amicizia e l'affetto che ci lega, mi astengo ad ogni commento. Al suo posto conclude subentra Salvatore Coppola al quale vanno gli auguri di buon lavoro. Così ad entrare in consiglio comunale con i suoi 196 voti è Salvatore Coppola che finora dopo le elezioni si è dimostrato spesso critico nei confronti dell'amministrazione comunale in carica. A questo punto bisognerà solo capire quale sarà la sua posizione e se sceglierà di stare con la maggioranza. Se così non fosse sarebbe il quarto consigliere di minoranza e quindi indipendente unitamente ai consiglieri comunali Agostino Abbate, Consolato Caccamo e Gisella Botticchio. Sulla questione è intervenuto inoltre anche il commissario cittadino di Agropoli, Emilio Malandrino. Non posso restare in silenzio dopo due episodi così eclatanti e straordinari che non hanno precedenti nella storia del nostro comune. Quello del 20 novembre scorso con le dimissioni del consigliere Monica Pizza e con le dimissioni del consigliere Emilio Cianciola, votati con ampi consensi ancorché persone incepibili e di grande valore, prima ancora che politicamente, sotto il profilo umano e sociale, spiega Malandrino. Cosa ha portato a decisioni così estreme e dirompenti? A mio avviso le motivazioni vere e profonde partono da molto lontano. L'assenza di dialogo e di confronto nella maggioranza è sì una delle ragioni del dissenso, ma la tragicità del gesto ha origine da altre radici. Quanto fatto fino ad oggi da questa amministrazione pari a poco più del nulla, l'inefficienza dell'azione amministrativa, l'incapacità di risolvere i problemi, la mancata programmazione turistica, la mancata programmazione urbanistica, l'inefficace controllo economico-finanziario, l'inesistente attenzione su questioni sanitarie come l'ospedale, sono alcuni dei deficit di una classe politica ormai di fatto al capolinea. Certo, chi ama fare politica per e tra la gente fa fatica a convivere con chi invece interpreta il ruolo politico-amministrativo solo ed esclusivamente per scopi ed interessi personali. E conclude, è questo un grido d'allarme di cui, facendomi portavoce di tanti che condividono questo pensiero, rivolgo in maniera appassionata a questa classe politica affinché siano loro a fare un gesto di grande dignità e di grande coraggio per il bene comune, dimettendosi e ridando così la parola al popolo sovrano.